Cinque persone da ammazzare tra Mesagna e San Pancrazio Salentino nelle logiche interne al gruppo che nel Brindisino gestiva il traffico di droga. E la nuova rivelazione del detenuto Pancrazio Carrino, 42 anni, alias Stellina, finito sotto inchiesta a Potenza dopo aver confessato il folle piano per uccidere la PM della DDA di Lecce, Carmen da Ruggero, e di aver minacciato la GIP Maria Francesca Mariano del Tribunale di Lecce. L'estate scorsa ha finto di aver iniziato la collaborazione solo per incontrare la magistrata e tagliarle la gola dopo aver saputo di essere stato accusato di violenza sessuale. La PM lo ha interrogato il 31 luglio nel carcere di Lecce, dove era ristretto in seguito al blitz dei carabinieri, nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla stessa PM sul gruppo Cantanna la Mendola, ritenuto di stampo mafioso. In quella occasione ha svelato le dinamiche interne al clan facendo riferimento a cinque persone che dovevano essere eliminate, salvo poi di trattare tutto dopo aver messo il suo finto pentimento. Su ordine di Gianluca la Mendola doveva uccidere Ennio Penna, si legge nella trascrizione dell'interrogatorio che Carrino ha firmato. Ennio Penna era il padre di Ercole, Penna ex capo clan della frangia mesagnese della Sacra Corona Unita che nel 2010 decise di collaborare con la giustizia. Il genitore si dissociò dalla decisione del figlio. Quanto al movente, Carrino ha detto di non esserne a conoscenza e ha aggiunto che doveva uccidere anche Tobia Parisi, in questo caso perché l'obiettivo era prendere mesagne. La Mendola è scritto nel verbale dell'interrogatorio ha detto di stare fermi perché stavamo già operando su San Vito, Brindisi e San Pancrazio. A San Pancrazio avrebbe dovuto uccidere un uomo che aveva fatto arrestare un mesagnese che gestiva il traffico di stupefacenti per conto di un affiliato al clan Bruno di Torre Santa Susanna. Infine altre due persone dovevano essere uccise nel Brindisino.